musica 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 buona ragazzi e benvenuti a questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo qui su pochi par qui la vallanatura di pikachu nella scorsa prato abbiamo affrontato il scivola neve di empoleon oggi invece si va avanti musica musica ok possiamo andare musica vai musica 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 bene dobbiamo dirci da la plus se non sbaglio musica 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 sta arrivando la plus musica 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 però vedo metà ok riflim portami alla alla piazza bene benissimo la casa sull'albero è aspetta aspetta ok guarda è il pallone di poco fa mi hanno aiutato i miei amici a portarlo qui dalla spiaggia per ora è rotto ma proverò a ripararlo è indispensabile per andare in tanti posti e farsi nuovi amici bene passi qui ok ok dobbiamo andare verso guardate guardate ah ecco ok ok vieni da aspettate sei tutto giallo e con le guaggiotte rosse sembri tutto fuorchi e forte sembri tutto fuorchi e forte ma ho sentito dire che hai battuto venusaure empoleon so che vuoi incontrare il mastro del cratere Blaziken ti lascio passare qua ok 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 bene bene allora andiamo alla pagina bene allora andiamo alla pagina oh cosa ok ok non è benissimo ora possiamo andare al Questa è andata adesso? Oh, no, non ha spinto. Ok. Benissimo. Ok. Allora. Miniera. Per andare a trattare si piega giù. Usare il vacancio della miniera. Ok. Ok, si va avanti. No, non voglio rileggere tutto. Mai, mai! Mr. Mai! Ehi, ascolta. Sono in un mare di guai. Manca una rotaia e il vagoncino non può procedere. Su, aiutami a trovarla o il vagoncino non potrà arrivare al cratere. Sicuramente Zubat ha delle dritte riguardo alla rotaia scomparsa. I vari Zubat svolazzano tutto il giorno. Li certo potranno rivelarti informazioni sentite in giro. Ah, va bene. Va bene. Allora andiamo da Zubat. Ma ci andremo nella prossima parte perché per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!